Buongiorno, benvenuti a tutti al nuovo appuntamento del ciclo un autunno matematico, un ciclo di formazione gratuita con Texas Instruments. Siamo qui come Campus Store Academy. Campus Store Academy è un ente di formazione accreditato da parte del Ministero dell'Istruzione. Potete trovare i nostri corsi sulla piattaforma Sofia o su MEPA, acquistabili sia da scuole che da docenti, anche con carta del docente. I nostri corsi sono in presenza, hands-on, a distanza oppure blended e spaziano dall'educazione digitale alla Google for Education, Microsoft for Education e Office 365, Lego, STEM, Robotica, Make Space, Storytelling e molto altro ancora. Questo è il nostro nuovo catalogo che vi presentiamo dedicato alla formazione. È scaricabile da www.campustore.it-cataloghi e trovate la descrizione dei nostri corsi con il relativo codice e tutte le informazioni utili. In Italia questo ciclo di webinar è in collaborazione con Texas Instruments e T-Cube Italia. T-Cube è un'associazione di docenti a livello europeo chiamata Teacher Teaching with Technology che per l'Italia è parte di Campus Store Academy che si occupa di formazione e divulgazione delle nuove tecnologie. In particolare in questo caso qua abbiamo questo ciclo di webinar per lo sviluppo professionale dei docenti. Questo è il logo T-Cube Italia, Teacher Teaching with Technology. È presente in 12 paesi, collabora con università, istituti di pedagogia o associazioni di insegnanti. È un'associazione STEM, quindi non solo matematica ma anche scienza, tecnologia e ingegneria. È un progetto a livello mondiale. Questa associazione offre formazione certificata e sviluppa del materiale didattico e ha oltre 20 anni di esperienza. In Italia questi sono i formatori, Elia Bombardelli, Virginia Alberti che sarà la redatrice del webinar di oggi, il professor Luigi Tomasi che doveva originariamente tenere il webinar di oggi, Piera Romano, Pierluigi Lai, Donatella Falciai e Salvatore Madagliele. È un nuovo ciclo di webinar con diverse idee di lezione per la matematica e le tecnologie. Al link che ritroverete poi con le slide avrete anche il link ai passati webinar al ciclo dell'anno scorso, comunque molto interessante. Il prossimo webinar sarà diciamo il 24 novembre, sempre con Virginia Alberti, dedicato a idee di lezione con Python, robotica educativa con la scuola secondaria, mentre a dicembre abbiamo altri tre appuntamenti. Il primo dicembre sulle STEM, croniche funzioni a scuola con la calcolatrice con Donatella Falciai e tecnologie al servizio della didattica della matematica con Pierluigi Lai e Piera Romano. Cosa potete aspettarvi a questo webinar? Diciamo un'indagine tra rapporto tra matematica, tecnologie digitali, STEM, STEM, robotica educativa e un approfondimento nell'utilizzo della tecnologia della matematica nella scuola secondaria di secondo grado. Come iscriversi? Abbiamo un nostro blog Innovation for Education dove c'è un articolo dove potete iscrivervi ai vari webinar e anche trovare altri contenuti gratuiti. Ricordo inoltre che potrete scaricare il software TI Inspire 6 Premium che è un emulatore software in matematica, geometria, foglio elettronico, statistica eccetera in maniera totalmente gratuita. altre risorse utili possono essere anche per i vostri studenti una playlist di video fatti dal docente al professore Lia Bombardelli che è anche un famoso youtuber. Altri servizi interessanti possono essere la possibilità di avere delle calcolatrici gratis per un mese quindi un programma di presto vi arriva una valigia con con le calcolatrici gratuitamente oppure ulteriore formazione. Con l'acquisto delle calcolatrici o da parte della scuola o anche se singolarmente è disponibile questo libro la calcolatrice grafica all'esame di stato con degli esempi pratici a cura dei formatori t cube italia e vi permette di iniziare l'inserimento dell'utilizzo della calcolatrice nella didattica con diversi esempi pratici quindi vi illustra sia i comandi ma applicati a problemi tipici dell'esame di maturità. Lascierei ora la parola a Virginia Alberti che è docente di matematica di scuola secondaria di secondo grado all'Istituto Superiore Castelli di Brescia e anche MI expert di Microsoft formatrice di t cube anche una delle direttrici di campus scientifiche di campus store academy. A te la parola a Virginia. Grazie Michele aspetto la condivisione dello schermo. Un attimo. ok sono pronta dovrebbe essere arrivata e sì ti vedo sì sì ti vedo ti vedo. Ok perfetto allora parto in modalità presentazione così saluto tutti grazie Michele della cosa e ringrazio per questa opportunità il mio intervento sarà un intervento proprio mirato alla nuova situazione in classe per il semplicissimo motivo che io credo che le tecnologie e soprattutto la calcolatrice grafica debbano essere così come i miei colleghi uno strumento molto valido per far riflettere gli studenti e per abituarli ad utilizzare diversi codici proprio proprio della disciplina ma che servono anche alle STEM. Vi ha già detto Michele che io insegno all'istituto di istruzione superiore Benedetto Castelli di Brescia che è un istituto tecnico industriale e io ho un triennio. Utilizzo la calcolatrice grafica in torno un attimo indietro utilizzo la calcolatrice grafica con i miei studenti vedete siamo un t stem lab come Castelli e quindi ho 30 calcolatrici grafiche nel nostro laboratorio e ho anche i rover che voi vedete qua con il mio mouse e quindi noi cerchiamo di collegare lo studio delle materie di indirizzo con la calcolatrice grafica e contenuti matematici quindi io lavoro molto in collaborazione anche con i miei colleghi ingegneri di telecomunicazione automazione e meccanica proprio perché così i ragazzi cominciano a capire che anche il linguaggio della matematica è molto utile per le loro discipline. Qui vedete così come vi diceva Michele il Team Spire Teacher CX che è l'emulatore del parmare che possono avere anche gli studenti collegati alla calcolatrice. Io non ho queste calcolatrici ma ho il vecchio modello con il processore ancora che non supporta la versione di coding di Python ma la calcolatrice su cui farò riferimento è questa con queste caratteristiche che possono essere utili per i vostri studenti. Qualora voi fossi interessati potete stare tranquilli perché potete utilizzare anche il CAS perché soprattutto nel teacher software c'è l'opportunità di avere il CAS. I vostri studenti possono scaricare per 30 giorni a questa pagina il software quindi se voi anche non avete le calcolatrice a disposizione ma potete mettere il vostro portatile collegato con il parmare e condividete la scherma con la LIM loro per 30 giorni possono scaricarlo come ha fatto alcuni dei miei studenti che non hanno a disposizione la licenza per cui è un'opportunità. Scaricato il software le icone che potete trovare sono le seguenti. Io faccio sempre riferimento perché parto dal presupposto che magari qualche collega proprio per la tematica intenda utilizzare la calcolatrice grafica a partire da adesso ma cominci magari dal secondo anno del primo vieno per utilizzarla in tutti gli anni e fare un percorso con gli studenti. Dico questo perché io lo faccio volutamente. So che c'è il software libero che è disponibile nel nostro competitor GeoGebra sui cellulari però siccome i ragazzi hanno sempre in mano il cellulare e oltretutto il cellulare alla versione GeoGebra col CAS ho visto che utilizzare la calcolatrice è estremamente interessante perché li fa lavorare in un'ottica diversa perché comunque loro arrivano nel laboratorio, igienizzano la loro calcolatrice che prendono, la collegano con il cavo lungo eventualmente al laboratorio e hanno l'opportunità se anche a distanza di confrontarsi e di calibrare sui loro tempi l'esercitazione che fanno. Vedete c'è comunque collegati i due software, la versione è la ultima 5.3 e qui vedete la schermata del CAS qualora voi apriste, abbiate l'opportunità di aprire l'emulatore col CAS che può essere utilizzato tranquillamente ecco la versione 5.3 2.129 e ha la licenza che è fruibile e utilizzabile. Avete anche un'opportunità notevole che è quella di usare praticamente il live presenter quindi io adesso ve lo farò vedere e ve lo farò vedere con una delle tematiche che affrontiamo oggi, la risoluzione di equazioni e di situazioni con il confronto grafico e qui vedete il cavo lungo la mia calcolatrice io posso segnare e assegno degli esercizi ai miei studenti e poi loro si collegano al mio portatile con il cavo lungo mantenendo la distanza e condividendo lo schermo. Prima di passare alla problematica vi farò vedere. L'iPresenter si attiva molto semplicemente, vedete che qui ha questa screenshot ma è un'immagine esclusivamente della vecchia calcolatrice poi lavora con il nuovo software che ha la possibilità di lavorare con l'aritmetica esatta che è una delle cose importantissime e quindi questo tipo di strumento può essere utile per far verbalizzare le operazioni che loro hanno svolto, quali sono i passaggi, le loro strategie risolutive per risolvere il problema che voi gli avete dato e anche per farli riflettere quindi implementare quello che è il pensiero critico. Una delle difficoltà che c'è adesso è consolidare quelli che sono i contenuti e passare per i problemi. Quindi il problema gli dà dei problemi e quindi io mi sono detta passo nella prima proposta a analizzare un nucleo di relazioni e funzioni e prendo un esercizio che viene proposto dal mio libro di terza però questa proposta può essere fatta sia per un primo bienio in una classe seconda oppure all'inizio in una classe terza. Utilizzeremo due applicazioni della calcolatrice grafica, le note e l'applicazione di grafici. Che cosa dice sostanzialmente il tema che vi propongo? Da un esercizio quindi di risoluzione proprio come esercizio introduttivo di sequazioni intera di primo grado e nella prima ipotesi dice utilizzando i grafici rappresentati risolve graficamente le seguenti disequazioni e quindi nel primo caso omette una disequazione di primo grado e richiede che sia minore di zero, quindi un polinomio di primo grado minore uguale a zero, un altro fa il confronto tra due polinomi di primo grado e io mi fermo qui nella proposta formativa. Nelle slide che seguiranno voi vedete propriamente che c'è la traccia della proposta che viene fatta proprio sulle slide. Però sapete che noi formatori diamo l'opportunità di condividere non solo le slide della registrazione ma anche i materiali, i materiali che sono dei file in formato TNS dove c'è la traccia del lavoro che noi abbiamo fatto. Quindi ecco che io ho preparato una schermata di note e in questa schermata di note ho sostanzialmente condiviso l'immagine nel blocco note, quindi voi potete anche preparare un file senza fare la presentazione, un file TNS per dare la consegna ai vostri studenti, lo potete distribuire se avete le calcolatrici grafiche col carrello lo fate molto velocemente altrimenti col cavo lungo potete farlo senza problemi. Allora vi faccio vedere un attimo come si può passare il file dalla computer alla calcolatrice, vedete che io ho collegata la mia calcolatrice che ha un nome, una volta che io ho collegata la calcolatrice che ha un nome, posso comunque inviare il file e salvarlo sul palmare, salvo sul mio palmare, seleziono il palmare e poi successivamente ho il mio file e vado a salvare il file dove desidero. Salva, fa il passaggio e quindi questa operazione è stata molto veloce e io l'ho fatta con alcuni miei studenti che si erano persi e avevo bisogno un attimo di velocizzare le operazioni senza problemi. Adesso attivo il live presenter così vi faccio vedere la condivisione dello schermo, vedete che è arrivato il file sulla calcolatrice, dice il documento, la calcolatrice è in classe, se c'è, lo apro e una volta lo devo fare con la calcolatrice, però sullo schermo del pc con l'emulatore perché sennò è un problema e quindi mi dice salva quello che avevo in precedenza, no, e ho il mio file nella mia calcolatrice senza problemi e qui vedete che ho aperto il file che vi stavo facendo vedere precedentemente. Allora vado un attimo veloce, adesso interrompo il presenter e quindi parto con il primo esercizio. Allora per fare il primo esercizio posso fare una proposta di questo genere ai ragazzi, posso aprire una schermata dell'app con le note e poi posso dividere lo schermo sostanzialmente in due parti. Tenete conto che adesso io lo faccio molto tranquillamente così riuscite a vedere passo passo quello che viene fatto di volta in volta, quindi copio tutto. I tasti CTRL-C e CTRL-V sono attivi, apro un file nuovo nella pagina del palmare e quindi sono nell'on, il mio file è nuovo, apro le note e inserisco inserisco la mia e il mio grafico, adesso vado a prendere l'immagine, così sono proprio l'immagine e la incollo nel nuovo documento e una volta che ho fatto questo posso tranquillamente andare in doc col tasto e layout pagina, tasto 5. Allora vedete che ogni volta che io sto facendo un'operazione a fianco del mouse c'è un tastierino numerico che è molto comodo soprattutto quando si ha la calcolatrice in mano e si sta lavorando il laboratorio. Selezione layout e vado a prendere il layout 2 e quindi ho questa finestra. Col tasto tab posso, CTRL-Tab posso passare da una finestra all'altra e quindi vado ad aggiungere, torno indietro un attimo perché ho sbagliato, ad aggiungere la finestra, allora mi sposto qua e aggiungo una finestra grafici. Allora quello che io voglio far riflettere ai miei studenti è fare l'interpretazione grafica praticamente di questa disequazione. Quindi gli studenti devono sapere che io associo ad ogni membro della disuguaglianza una funzione, una funzione oppure una relazione posso scrivere perché posso optare per le due opportunità e quindi dire ai miei studenti ok cominciamo a rappresentare le relazioni, la prima relazione y uguale meno 3x meno 6 oppure la posso chiamare f1 di x uguale meno 3x meno 6 oppure potrò usare un altro tasto che è il tasto inserimento modelli di equazioni per fare questa operazione. Allora per adesso io scrivo come funzione quindi meno 3x meno 6 e inserisco. Allora lo studente ha visto la prima funzione poi devo inserire la seconda perché devo comparare qual è la prima funzione la funzione f1 meno 3x meno 6 con la funzione y uguale a 0 e stabilire dove la parte del grafico della prima funzione sta sotto il grafico della funzione y uguale a 0. Questo detto proprio in questi termini volutamente perché il matematichese in questo momento può creare delle difficoltà proprio perché quello che io ho notato che hanno perso sono stati i diversi registri di comunicazione in ambito matematico quindi non riescono a collegare diversi codici e quindi certe volte si parla con nel linguaggio specifico ma quando dobbiamo parlare con i nostri studenti certe volte proprio bisogna essere specifici da questo punto di vista soprattutto quando loro non hanno in mano il cellulare che non whatsappano e sono lì con la loro calcolatrice e magari si guardano si confrontano e alzano la mano per chiedere le cose allora quindi io adesso farò in un altro inserimento menu e inserisco stavolta come relazione e molto scrivo y uguale scusate che è partito torno indietro y uguale 0 e le do l'enter allora in automatico mi schemi si è rappresentata la funzione che ho scritto sotto forma di relazione y uguale a 0 allora i miei studenti dicevano ma non vogliamo colorata rossa la prima funzione y uguale meno 3x meno 6 e quindi va bene andiamo a scolorarla di rossa quindi andiamo a cliccare sulla funzione per attivare il menu degli enti che sono sulla finestra grafica dobbiamo usare i tasti control menu questi tasti control menu una volta che abbiamo selezionato lente cioè la retta ci permettono di attivare il tasto destro del mouse quindi vediamo che c'è il tasto b andiamo a cliccare sul tasto b colore linea e quindi si apre la paletta dei colori possiamo selezionare il colore rosso così noi possiamo proprio parlare la retta rossa la retta blu e quindi ragazzi riescono a visualizzare decisamente molto meglio adesso fermo per eliminare il lappeggiamento della retta clicco sul tasto esc che ho le due funzioni allora i ragazzi devono capire che quando io vado a cercare la soluzione di questa equazione è come se io avessi per confronto un sistema e vado a trovare una delle equazioni che sono equivalenti quindi devo andare a leggere praticamente la scissa del punto di intersezione del tra le due rette e quindi adesso devo trovare il punto di intersezione diciamo che noi abbiamo due opportunità in questo con la calcolatrice grafica possiamo lavorare con lo strumento analizza funzioni oppure possiamo lavorare con lo strumento geometria che è collegato con la pagina con l'app che è grafici che connette appunto gli enti geometrici di cabri quindi cominciamo a farlo in primo caso con menu tasto 6 analizza grafico e ritorno indietro menu tasto 6 analizza grafico e vado a vedere che si è aperto un sottomenu il tasto 4 intersezione che quello che mi serve allora adesso però mi date fa delle domande che magari non ci saremmo mai aspettate perché ci aspettiamo di andare a lavorare come se fosse geogebra che invece non è così lui mi dice estremo inferiore cioè come mai mi chiede estremo inferiore perché in pratica lui mi chiede un intervallo vedete che se io mi muovo sulla fine col mouse sull'area della finestra grafici nel quando io ho estremo inferiore e è aperta praticamente il sottomenu dell'intersezione con analisi grafici perché vedete quando io vado su questa iconcina mi si apre una maschera che mi dice fare clic su due grafici funzioni ed equazione quindi fare clic sugli estremi sinistra e destra dell'intervallo in cui effettuare la ricerca quindi diciamo che anche il software della calcolatrice grafica e user friendly cioè ci dà delle indicazioni praticamente sull'uso del del grafico allora io adesso cosa devo fare devo cliccare praticamente posizionando la retta tratteggiata e indica l'estremo inferiore e quindi sul touchpad della tastiera dove c'è il puntatore e la manina clicco forte e quindi ho fissato la posizione estremo inferiore poi siccome è un touchpad proprio touch draggo draggo la retta dell'estremo inferiore cioè trascino vediamo se riesco trascino l'estremo inferiore e quindi lo studente deve sapere tematicamente la soluzione che va cercando è l'ascissa del punto intersezione tra le due rette e quindi ecco che nel passare sopra l'intersezione con l'estremo inferiore l'estremo superiore scusate nell'intervallo di selezione vado a cercare l'intersezione io trovo l'intersezione poi blocco l'estremo superiore cliccando sopra il mouse e ecco che ho trovato praticamente il punto di intersezione adesso contro e il tasto centrale vado sull'etichetta del punto e sposto il punto se voglio nominare il punto di intersezione ho selezionato un ente del della finestra grafici quindi devo attivare il tasto destro del mouse per far mettere l'etichetta quindi contro menu e quindi vado tasto 2 del etichetta mi viene una finestrella di testo con il cursore che lampeggia digito la a ok magari la digito contro a con la maiuscola perché un punto ed ecco che io il punto a la cui è scissa e meno 2 e l'ordinata è 0 e quindi arrivati a questo punto io posso rispondere x uguale a meno 2 la soluzione della mia equazione a questo punto di vista allora lo studente mi dice ok profe va bene così ma io potevo portare il meno 6 dall'altra parte e confrontare certamente sì un'ulteriore variazione e rifare la disequazione in questo modo e andare a analizzare e a vedere che cosa succede supponiamo che lo studente voglia capire cosa vuol dire che non c'è cas allora noi possiamo assolutamente utilizzare uno strumento in calcolatrice che è il risolutore numerico e far vedere come è il valore della della la soluzione della nostra equazione quindi a questo punto noi possiamo aggiungere una finestra contro il doc il file che metterò a disposizione sarà un pochettino più esteso perché ho aperto più finestra di fatto magari ingrandendo le cose ma ho voluto dare l'opportunità proprio di predisporre il file di condivisione perché voi potreste anche flippare se i vostri studenti hanno la calcolatrice grafica o hanno lo software studente a casa da utilizzare dagli un file in consegna che loro devono compilare e quando tornano in classe loro presentano il loro lavoro dopo che magari ha fatto un piccolo brainstorm sulle sulle cose e quindi vengono all'interno la loro calcolatrice e lavorano allora noi stiamo dicendo aggiungi calcolatrice aggiungi calcolatrice quindi noi adesso possiamo utilizzare quello che è il risolutore come facciamo utilizzare il risolutore allora andiamo in menu calcolatrice e andiamo in algebra tasto 3 risolutore numerico scriviamo proprio la nostra equazione meno 3 x non mi la ricordo più ma adesso andiamo a vedere anzi era questa era la soluzione e poi procediamo con la disequazione allora 3 x meno un attimo è 3 x meno 6 meno 6 uguale 0 virgola x e gli diamo l'enter e vediamo che per cui abbiamo trovato la soluzione dell'equazione allora adesso noi vogliamo risolvere la nostra disequazione e quindi dare un metodo per andare a trovare le cose allora ripetiamo un attimino contro il doc e facciamo una una risoluzione un pochettino più veloce quindi la nostra f1 era la la soluzione data adesso la scriviamo come retta quindi andiamo a menu inserimento quindi andiamo modelli di equazione tasto 3 retta e quindi abbiamo forma esplicita la scriviamo quindi qua era meno 3 x e l'altro se non sbaglio era meno 6 meno 6 vediamo l'enter e viene rappresentata la nostra retta la disegniamo rossa un attimino veloce così colore linea così ripassiamo con la palette e poi andiamo menu l'inserimento e anche qui modelli di equazione retta forma esplicita e quindi mettiamo 0 e 0 e quindi abbiamo la stretta y uguale a 0 questa la disegniamo in blu colore linea blu ok adesso troviamo il punto di intersezione con la punta con geometria quindi al punto di vista geometrico quindi tasto meno menu tasto 8 tasto 1 tasto 1 e andiamo a vedere che nel tasto 4 punto di intersezione quindi clicchiamo tasto 4 punto di intersezione si arriva si attiva il comando intersezione che mi dice fare clic sul primo e secondo grafico quindi clicco sul grafico clicco sul grafico o le coordinate del punto di intersezione e quindi ho le mie due funzioni assegnate come modello quindi a questo punto date come modello il lo studente siccome noi dobbiamo risolvere dove meno 3x meno 6 risulta essere negativa vuol dire che grafico rosso sta sotto il grafico blu e quindi devo proiettare tutti i punti del grafico rosso sul grafico blu e leggere le ascisse e quindi l'intervallo considerato quindi la parte che risolve e x maggiore uguale di meno 2 allora a questo punto considerando x maggiore uguale di meno 2 potrebbe essere interessante vedere che cosa succede in per la nostra funzione lavorando con queste modalità esco allora adesso inserisco un attimo più semplicemente perché mi fa comodo lavorare f2 uguale f1 aperta tonda di x ok così la rossa è la f2 e mi va a prendere questa funzione e vado a inserire un altro menu inserimento e quindi prendo funzione f3 uguale a 0 ente è dovuta essere nera la mettiamo blu sempre allora tutti questi passaggi sono un attimo per anche prendere un attimo confidenza per quello che risulta essere sotto allora gli studenti alzano la mano mi dicono profe io non vedo il tratto e non capisco perché è l'intervallo e devo proiettare i punti e devo leggere gli ascissi dei punti la cui ordinata della retta rossa è minore dell'ordinata alerta blu qui ci viene in assolutamente in aiuto una funzione di grafici che è la funzione 5 traccia grafico e la cosa che è interessante è traccia tutto allora vedete che sia nel caso in cui io abbia utilizzato i modelli di equazione o abbia utilizzato sostanzialmente le funzioni il traccia c'è che cosa mi dà al traccia il traccia man mano che io le esposto col cursore nuove praticamente le ordinate ai punti io potevo e ho fatto la costruzione con gli studenti proprio di proiettare prendere un punto sulla retta rossa proiettarlo sulla retta blu costruire il piede della perpendicolare associare i due punti le coordinate rendere le visibili muovendo il punto con la manina dragando e leggendo le coordinate però tutta questa costruzione se voi avete poco tempo volete passare un attimino più velocemente aveva da lo strumento traccia che proprio uno strumento che è stato costruito ad hoc e che mi permette anche di leggere di volta in volta allora noi vediamo che praticamente il punto sull'asse delle x di ascissa x uguale a due origini due semirette e e quindi ho la semiretta le cui ascisse sono minore di meno 2 la semiretta le cui le cui ascisse sono maggiore di 2 e quindi allora noi andiamo a vedere propriamente quindi andiamo a vedere se siamo prima e quindi siamo valori che sono prima del meno 2 quindi x minore di meno 2 che cosa succede alla f2 e alla f3 noi volevamo che la f2 fosse minore della f3 sostanzialmente e quindi noi andiamo a vedere proprio che invece le ordinate della f2 o della e1 che sono le funzioni rosse sono tre in questo momento e della f3 e della e2 che sono le funzioni che abbiamo costruito sostanzialmente valgono zero e quindi sono minori i valori delle ordinate della rossa rispetto e quindi questo questi punti che vengono descritti di volta in volta non sono quelli che soddisfano il nostro intervallo e quindi vuol dire che se dobbiamo usare il traccia dobbiamo leggere i dati dall'altra parte quindi i valori dei punti che sono praticamente nel semipiano delle x maggiore uguale a meno 2 e quindi in particolare siccome andiamo risolvere le disequazioni ad un'incognita e quindi andiamo a dare l'interpretazione grafica noi dobbiamo leggere esclusivamente e darle alla soluzione per x maggiore uguale a meno 2 però il problema del fatto di avere questo passaggio nel dal piano sulla retta e così via crea un attimo di scompiglio ai ragazzi per cui bisogna sostanzialmente qualche volta visualizzare questa situazione e quindi bisogna dare delle indicazioni quindi man mano l'operazione potrebbe essere che di volta in volta alle varie persone che vedono la loro calcolatrice che vedono il software che sta lavorando si spostano e si fanno leggere le coordinate dei punti e si fa la domanda allora a questo punto soddisfa o no la relazione per cui meno 3 x 1 6 risulta essere minore uguale a zero sì no perché e quindi facendo verbalizzare e lavorando su questa parte si riesce a risolvere qualche problema supponiamo che ragazzi ancora a questo punto non abbiano ancora capito che cosa succede tutta questa parte allora noi dobbiamo dirgli ma insomma qual è la parte di di grafico che sta sotto y uguale a zero allora y uguale a divide il piano in due semipiani per cui noi possiamo benissimo inserire quella che è una relazione un attimo che la vado a prendere perché qui inserimento tasto 2 relazione e andare a scrivere y minore uguale a zero allora per scrivere minore uguale control tasto uguale paletta e zero e quindi cliccare e quindi vuol dire che abbiamo selezionato e quindi al ragazzo possiamo un attimo questa etichetta il ragazzo la mettiamo qua e questa rossa la mettiamo qui il ragazzo sa che deve andare a vedere il tratto della funzione rossa che nel semipiano rosso è quello che soddisfa la relazione quindi il tratto questo tratto di semiretta proiettare punti e leggere l'intervallo supponiamo che anche ora adesso il ragazzo non veda tutte le situazioni allora andiamo menu inserimento grafico a funzione andiamo a prendere la cronologia ok un attimo che volevo però cancellare allora non elimino tutto allora facciamo una cosa di questo genere torniamo indietro così togliamo il semipiano e facciamo prima invece che fanno un altro allora dobbiamo disegnare questo tratto di semiretta per proiettare i punti con la costruzione e disegnare l'intervallo e quindi facciamo la costruzione un secondo per capire tutta questa parte io ho fatto tutto questo discorso per quanto riguarda questo tipo di esecuazione che poi potrà essere ripetuto anche per le altre però degli esempi molto snelli per poter abbracciare un pochettino il discorso delle disequazioni equazioni però se uno già non ha la visualizzazione in questo contesto diventa molto difficile poi operare anche con in terza con le equazioni disequazioni irrazionali con confronto grafico anche se loro non conoscono grafici ma con la calcolatrice possono leggere capire il meccanismo le equazioni le esecuazioni in valore assoluto oppure con le esponenziali oppure le disequazioni che sono risolvibili solo con confronto grafico e procedere oltre di queste sono delle idee che vengono utilizzate su questo spunto e che poi potranno essere anche utilizzate successivamente nella proposta formativa che non ho svolto ma che sono andata a leggere che vi propongo perché è estremamente intrigante sia da parte nostra da considerare sia da riproporre a step ai nostri studenti in maniera abbastanza variegata perché ci sono molti stimoli in modo tale da sollecitare l'apprendimento degli studenti per cui vado su menu a questo punto inserisco il grafico inserisco una funzione f4 e quindi lo diciamo ok devo rappresentare questa semiretta il che vuol dire che devo partire e fare il grafico a tratti sostanzialmente quindi vado a prendere il tasto in cui ho l'editor di testo e vado a utilizzare la funzione a tratti o ci sarà un esempio anche nei file che mi metto a disposizione con la funzione piecewise che è utilizzabile proprio nella libreria delle utility e che può essere utilizzata anche in calcolatrice per far capire il significato di valore assoluto e lavorare col valore assoluto per cui a questo punto sostanzialmente che cosa possiamo fare noi andiamo a scrivere la nostra funzione era la nostra f2 pur se gli studenti non vogliono vedere proprio l'equazione riportiamo meno 3x meno 6 e qui andiamo a scrivere il nostro intervallo x maggiore o uguale di meno 2 che lo studente deve aver letto prioritariamente quindi contro tasto con la palette maggiore o uguale a due e poi ci spostiamo qua sotto e andiamo a cancellare e facciamo un bel crunch del vediamo enter e se un attimo che vado a vedere me l'avrà scritta in rosso vado a vedere menu se l'ho inserita e non l'ho cancellata perché magari l'ho anche cancellata no eccola qua l'ef4 la mia f4 meno 3x meno 6 per ecco non la vedo perché ho sbagliato non ho messo il meno 2 quindi enter se non vedo l'etichetta colorata con l'equazione associata e colore vuol dire che ho fatto qualche errore di immissione e quindi posso andare come avete visto che richiamare l'inserimento vedere se nella cronologia ho inserito e se non mi faccio una domanda oppure modifico praticamente quello che lo zoom di testo per andare a vedere che cosa ho rappresentato piuttosto che quindi avrò rappresentato un tratto una semiretta da tutt'altra parte quindi vedete che è diventata rosa il tratto della semiretta che andava bene allora adesso io che cosa posso fare a questo punto posso prendere un punto sulla retta costruire la perpendicolare all'asse alla y uguale a zero trovare il punto di intersezione poi mettere traccia attiva e disegnare il segmento assegnato adesso questo sarà una proposta di compito che potrete fare trovate comunque il file nella calcolatrice grafica uno più avanti eccola qua la costruzione quindi io qui ho già fatto la costruzione i ragazzi possono leggere il punto altrimenti io mi posiziono sul punto assegnato se lo faccio qua tasto destro traccia geometria traccia geometria e e ecco che disegno man mano spostando il cosa attenzione che se io zoom o nuovo un attimo rimane il segmento tracciato perché lavora sotto con una sorta di mattro ma non è nella posizione assegnata quindi io se zoom se cambio praticamente la risoluzione dello schermo e così via devo avere l'avvertenza di cancellare la traccia e quindi riattivarla quindi come faccio vado sulla sulla traccia mi posiziono sul tasto 7 e vedete che ho praticamente la mia impostazione percorso impostazioni traccia allora veniamo un attimo se mi sposto e lo muovo allora muoviamolo così vedete che c'è rimasta clicco qua sopra e la elimino direttamente oppure nascondi traccia e ritorno adesso ritorno così rimane la traccia e procedo oltre qualcuno potrebbe anche risolvere come relazione in qualche mio studente l'ha fatto però questo non era il topic della della lezione per cui procediamo oltre allora analogamente per il punto b si può lavorare nello stesso modo costruire le le intersezioni qui si può lavorare con un faccio dirette con il cursore e il fascio dirette fa leggere i punti e i punti con le coordinate che soddisfano la relazione assegnata danno praticamente poi l'intervallo a a partire dalla scissa del punto di intersezione quindi x uguale a un punto di intersezione e quindi sarà l'intervallo x minore di 1 x maggiore di 1 e quindi lo studente leggendo questo o utilizzando tracciattiva può lavorare e rispondere alle domande e supportare stessa cosa voi la potete fare in seguito procedo qui ho fatto praticamente la risoluzione del del problema precedente con solve e ho diviso le due finestre ma potete lavorare anche così come trovate anche nella guida se voi andate in menu se voi andate in menu sfoglia voi trovate la guida in esempio in italiano guida introduttiva nella guida introduttiva c'è questa traccia adesso io vado nel corrente così ritorniamo allora noi abbiamo l'opportunità nella pagina note di inserire quello che è col menu un inserisci riquadro matematico e il quadro matematico una volta che è stato inserito ha l'opportunità anche di fare calcoli e ne fare calcoli io posso attivare la finestra algebrica risolutore numerico o altri tipi di assegnazione e quindi tenete conto di questa cosa che voi potete anche proporre delle schede con layout divise ogni orizzontale o in verticale e i ragazzi devono fare il completamento del loro file se per caso questo glielo date perché avete una piattaforma attiva e i ragazzi li possono la possono lavorare a casa su questa tipologia possono completare il file e poi ve li possono spedire sulla piattaforma voi le scaricate e poi le aprite andando a leggere oppure voi potete dire ai vostri studenti ok tu lavori con la tua attività mi prepari un piccolo clip grid collegato alla piattaforma film del lavora sia con la piattaforma microsoft sia con la piattaforma google linea generale le scuole secondaria superiore viaggiano principalmente con queste piattaforme e questo clip grid è un video un mini video in cui loro descrivono e verbalizzano le loro azioni quindi in realtà non possono far vedere quello che è stato fatto da questo punto di vista e quindi condividono sulla vostra invito dell'attività questa questa video questa presentazione e gli altri compagni possono commentare possono vari like e così diventa una modalità in cui comunque gli studenti si attivano decisamente molto anche nella comunicazione e si impegnano a presentare la loro proposta di attività con ciò io ho finito adesso vado un attimo ho finito questa parte procedo molto velocemente sempre su questo contenuto come noi possiamo ampliare questa proposta formativa noi possiamo ampliare questa proposta formativa con la proposta del progetto matare nel scuola valore in dire nucleo relazioni funzioni c'è proprio ci sono molte attività che introducono proprio su equazioni disequazioni e che implementa i vari tipi di codici per cui quello grafico quella che io ho trovato intrigante equazioni disequazioni primo grado con di pierangela comazzo e marilina paolo domingo paola e fiorenzo turiano e come vedete tra gli obiettivi risolve per via grafica numerica e algebrica problemi che formalizzano mediante equazioni disequazioni di primo grado tutta l'attività estremamente interessante quindi io mi sono presa proprio la briga di condividere la descrizione e poi di mettere qual è l'introduzione l'obiettivo principale attività e quindi fare in modo che gli studenti comprendano l'importanza di equazioni disequazioni come potenti strumenti matematici che esistono padronanza consapevole e non solo meccanica di metodi risolutivi quindi sia per via algebre che sia per via grafica sappiano scegliere registi e ambiti operativi sappiano controllare criticamente i risultati e sopra la scelta quale considera da prima equazioni disequazioni come proposizioni aperte da trasformare in proposizioni equivalenti con le proprietà dell'uguaglianza delle disuguaglianze in un secondo momento la stessa modalità algebrica risolutive sono interpretate con una lettura con la lettura dinamica attraverso grafici e tabelle numeriche di funzioni quindi loro aggiungono anche le tabelle numeriche e si sposa benissimo questa attività in un file da dare quindi ecco qui ci sono i riferimenti curricolari con le indicazioni curricolari sia gli obiettivi gli obiettivi specifici apprendimento nelle indicazioni nazionali per il lucei concetto e soluzioni equazioni in primo grado incontri alle esecuazioni associate non quelle tecniche per la loro risoluzione grafica algebrica e nelle abilità anche dell'istituto tecnico proposizionali la stessa identica cosa sostanzialmente e quindi direi che a questo potete trovare l'attività in che cosa consiste la latità così come tutte le attività di matabel c'è un problema un problema qui che parte dal punto di vista fisico e quindi voi potete riportare la tabella voi trovate gli stessi file che vengono resi disponibili con georgevra alcuni vengono scaricati ma la cosa che è estremamente interessante di questa proposta formativa che io vi ho fatto e qui ho messo la fase 1 è che non solo ci sono le attività per tutta la classe ma ci sono le attività anche per quelli studenti che hanno qualche problema e quindi noi ci troviamo ad essere pronti a lavorare per il recupero delle competenze che non hanno sviluppato delle conoscenze delle abilità delle competenze che non hanno sviluppato nel primo bienio in terza sia per gli studenti che non hanno difficoltà ma anche per gli studenti con difficoltà con dei percorsi ben precisi strutturati e noi possiamo riportare cosa ci qual è la risorsa della calcolatrice grafica che comunque non c'è la differenza dello studio e dello smartphone messo a disposizione degli studenti quindi non devono usare l'app non devono usare internet non devono usare il loro device io posso guardare i loro risultati senza che sia su un device personale perché questo mi cerca moltissimo ok nella condivisione e quindi la calcolatrice grafica mi permette di condividere le varie cose ma voi potreste anche lavorare con la stessa vostra calcolatrice e far verbalizzare le operazioni e far lavorare proprio tutti insieme così come faccio io certe volte in classe quando non ho a disposizione le calcolatrici grafiche che sono in laboratorio posizionate nella cosa e quindi mi ci vogliono dieci minuti per andare a prendere i sacchetti con le calcolatrici darle igienizzare mettere a disposizione poi magari sono scariche non ho il computer con la presa usb e così via vi ricordo di non fare la calcolatrice con la presa del cellulare e quindi lo faccio io e a turno faccio verbalizzare le cose poi genizzo magari la mia calcolatrice la do a disposizione perché qualcuno dice proprio mi può prestare la calcolatrice che io lavoro con la calcolatrice e poi vengo io a farlo prima perché magari già fatto qualche cosa precedentemente ha trovato intrigante farlo quindi sono proposte che sono carine allora la cosa che è estremamente interessante vedete che qui ci sono alcune proposte fatte problema quindi lavorano aggiungendo dell'equazione quindi applicando i criteri di equivalenza delle equazioni facendo vedere anche per via grafica che non cambia nulla o moltiplicando questa la proposta del molti del moltiplicare per una costante a voi membri per cui ecco che possiamo lavorare con lo slide lavorare con passi dirette e lavorare su delle attività e qui sotto proponiamo le attività esplorare le cose criticamente e quindi possiamo procedere un attimo che torno indietro secondo esca perché se no qui ci sono le pagine ecco precedentemente che cosa avevano proposto di completare questa tabella quindi voi potreste svolgere il primo la prima tabella fatta insieme con loro e poi diversamente attribuire 21 oppure una costante uguale additiva sottrattiva al loro numero sul registro elettronico e magari a quelli che sono un attimo più abili dare il parametro k e lavorare in questa modalità poi lo stesso discorso moltiplicando seguendo la traccia e quindi questo secondo me è una proposta con cui voi potete rivedere tutti i discorsi che io ho fatto precedentemente ma inseriti in questo contesto con questa proposta formativa che credo che sia estremamente intrigante le attività sono molteplici perché avete visto che ci sono tantissime fasi poi ci sono le prove in balzi che sono ripetibili con la calcolatrice grafica poi ci sono ulteriori proposte che lavorano in diverse modalità ma sulla fattispecie poteste essere creativi pensare un problema e lavorare da questo punto di vista se voi andate in rete trovate anche qualche proposta in geogebra con alcune attività creative qualche problema da qualche collega voi potete prendere questi problemi e riportarli sulla calcolatrice grafica e lavorare da questo punto di vista passo oltre e passo ad una seconda proposta che è molto simile a uno dei quesiti dell'esame maturità all'esame maturità mi sembra del 2018 uno dei quesiti preparatori era risolvere graficamente un'equazione in valore assoluto dove gli argomenti dei valori assoluti erano due polinomi di primo grado e quindi li lavoravate in quella modalità in questo caso io ho preso modulo di x al quadrato meno uno uguale moduli più una tecnica sempre la stessa scrivere le due funzioni quindi gli studenti lo scrivere dire tutto il discorso per cui devo porre il primo membro uguale al quadrato il primo membro x al quadrato meno uno uguale a y secondo membro i moduli x più uguale a y posso passare tramite la f1 la f2 posso lavorare sui grafici posso anche introdurre prima il lavoro sul mondo l'ho fatto scusate era il tempo che mi davo rubo ancora qualche minuto così vi racconto proprio in relazione ai moduli quello che abbiamo fatto stamattina stamattina ho introdotto proprio il modulo e siccome il modulo di numero reale non avevano problemi ma il modulo di un'espressione o di una funzione o il modulo dove l'argomento era un qualsiasi polinomio li rendeva veramente basiti e mi guardavano persi non capisco di cosa sta parlando abbiamo lavorato graficamente prima vedendo cosa faceva la calcolatrice grafica mettendo semplicemente il modulo e quindi noi come facevamo a ammettere l'inserimento del modulo vado a prendere il secondo il secondo ecco eccolo qua la seconda proposta è qui come ho fatto a inserire il modulo mi metto nella finestra vado a cliccare menu inserimento vado a prendere la funzione vado a prendere qui la cronologia f1 allora o uso il simbolo di modulo che vado a prendere nell'editor e ed è l'ultimo sulla prima riga e poi inserisco e mando le attività oppure posso scegliere la funzione piecewise tranquillamente e come la scelgo la funzione piecewise andando nella libreria normalmente parte sulla so che la funzione piecewise vuol dire funzione praticamente a tratti e legge con i vari intervalli la vado a ribeccare se digital ap non va a prendere adesso magari sono aperto 2000 file è un attimo lento il mio completo computer ecco quando clicco mi si apre il box con la sintassi quindi sarebbe il nostro se allora altrimenti l'espressione 1 la condizione e poi l'espressione 2 la condizione io posso concatenare più volte diciamo che va a riassume non una funzione a tratti in cui io ho due relazioni con le rispettive condizioni ma la funzione assegnata e quindi la vado a scrivere in quel modo esca poi scrivo l'altra funzione l'altra funzione la posso scrivere anche come abs di aperta tonda x1 ricordate che il software della texas utilizza praticamente gli stesse modalità con cui si scrivono col computer le funzioni che mi vengono disegnate poi qui ovviamente la funzione di zoom gioca un ruolo estremamente importante leggo quante sono le intersezioni la soluzione e poi anche qui con la funzione traccia posso assolutamente esplorare e proseguire senza problemi posso scrivere anche la funzione modulo di su uno mettendo nell'etichetta x iniziale il più uno e la relazione e poi sotto scrivere meno il più uno e non mettere nulla allora il fatto di vedere scritta la funzione in questo modo come noi andiamo a dire cosa vuol dire modulo di x più uno vuol dire dire allora se nell'argomento del modulo cioè se l'espressione che tra le stanghette è positiva cioè x più uno è maggiore o uguale a zero scrivi il più uno cioè copia l'argomento e togli le stanghette tutto il proprio dire così altrimenti s l'altrimenti metti il meno davanti all'espressione fatta e le domande è stata ma altrimenti che cosa vuol dire cosa vado a beccare e allora qui sempre il discorso io dico il punto x uguale a 1 e la retta x uguale a 1 vado a dividere se il punto sulla retta la retta in due semi retta sono nell'immagine a due dimensioni x uguale a 1 mi divide il piano in due semi piani quindi vuol dire che vado a prendere per quanto riguarda la legge l'intervallo altro rispetto all'intervallo che va da meno uno compreso a più infinito e quindi vado a scegliere la legge quindi l'ho fatto notare che la calcolatrice grafica se in questo caso nella f5 non avevo risolto questa disequazione secondo grado in automatico trovava le soluzioni e andava a disegnare in questo intervallo la legge assegnata mentre in dei quindi per valori esterni e quindi per valori interni allora il discorso è stato ok proviamo quindi c'è al quadrato meno uno e andiamo a vedere quello che era stato fatto in secondo col metodo grafico della parabola che loro esprimevano pedissequamente senza aver capito che cos'era l'esterno e gli interni e quindi hanno fatto questa comparazione con tutto questo discorso ed è stato estremamente importante perché qualcuno è arrivato proprio compiaciuto e mi ha detto no ma profe noi la calcolatrice la dobbiamo usare altre volte perché gli ho detto no perché sì io oggi ho gebra con qualcosa però con i tastini faccio meglio col taccio un po di meno sì forse magari col computer georgebra è meglio però così col tasto 568 io mi muovo comunque il touchpad loro sono velocissimi io lo faccio con l'indice loro hanno indice pollice e quindi si trovano e poi col fatto che comunque non c'è sotto il casco e devono pensare anche dal punto di vista matematico che non possono risolvere le cose e comunque devono fare il collegamento fra i vari registri e che tutto relativamente una parte sta in un file piace parecchio e quindi lavorano altre proposte che voi potete trovare e poi chiudo proprio la disequazione in modulo l'operazione traccia è estremamente interessante perché mi permette di andare a leggere quali sono gli intervalli e lavorare anche qui con l'intervallo rappresentare a segretta vedere quali sono le parti quindi lavorare a seconda dei vari contesti sulle varie parti stesso discorso sulle situazioni equazioni irrazionali questo è stato negli anni passati un esempio anche questo che ha creato molta discussione perché ovviamente allora qui voi vedete la rappresentazione del grafico per cui se io mi sposto con il grafico con la funzione traccia e mi rimane questo diciamo cursore visibile nel dominio praticamente per il compreso tra me in 44 del del è uguale tra me in 44 delle razionale poi mi sparisce e loro cominciano a farsi delle domande e poi si fanno delle domande anche perché qui il problema grossissimo la differenza tra legale algebrico aritmetico nelle funzioni con le radicali di indici pari che cosa vado a prendere e così via quindi se le faccio dal punto di vista algebrico certe condizioni non le capiscono quando io glielo faccio fare anche senza sapere che cose sono dal punto di vista grafico riconoscono l'arco di circonferenza riconoscono la parabola ma sicuramente molto più carina è l'azione del traccia se noi l'andiamo a beccare adesso la vado a prendere il traccia tutto perché quando io mi sposto sul traccia tutto vedo che qui posso spostarmi prima non trovo nulla e se non ho il 4 vado praticamente a prendere l'impostazione del traccia e vado dire non automatico gli metto il valore e dico ti sposti di 0.1 ti sposti di 0.1 così io vedo quello che stiamo facendo e mi vado a posizionare qua e qui sono almeno 4 e praticamente non mi dice proprio che cosa succede perché perché qui praticamente la funzione mi sposto c'è il 3,9 perché non la ho zoomato e non erano nemmeno non erano almeno 4 quindi vuol dire che praticamente il radicale non è definito poi sostanzialmente che cosa succede che io mi sposto di 0.1 vado proprio dove comincia e leggo che la l'ordinata della curva gialla è 0 e poi l'ordinata della curva marron e meno 15 e quindi faccio il collegamento su quello che io dovevo verificare quindi dovevo verificare che la curva gialla fosse praticamente maggiore e trovare valori per la x intervallo della curva gialla fosse maggiore o uguale della curva marron e quindi qui cominciano col movimento del traccia a capire dove sta maggiore e a rispondere all'intervallo e quindi molte volte mi dicono beh prof è così è molto più semplice se io imparo a costruire i grafici direttamente con carta e penna poi se sono in difficoltà col calcolo algebrico risolvo per via grafica e quindi sono a posto ho detto certamente sì certamente sì nel senso che se c'è risolvi tu puoi scegliere la tipologia di risoluzione e quindi ti prepari anche alle prove in bassi del quinto anno e ti prepari anche magari al test d'ingresso ingegneria da questo punto di vista ci sono altre proposte mi scuso perché mi sono dilungata però vi assegno e le cose fondamentali anche per gli altri tipi di risoluzione di esecuazione le ho date allegheremo tutti i file nella presentazione troverete proprio praticamente tutto e passo all'ultima slide e direi mi riconnetto a vado a chiamare allora vediamo intanto nascondo la webcam e vado a sentire michele michele ci sei vediamo se allora vediamo se riesco a prendere i comandi come relatore sono andata un po lunga e su alcune parti veloce ci sarebbero ancora una marea di esempi da fare avviso anche i colleghi che non ho messo volutamente per non dare troppi stimoli gli spunti sul triennio perché ho voluto puntare sul secondo anno del secondo bienio e su qui sull'ultimo anno voluto puntare più sul sugli altri anni perché magari qualcuno pensa di utilizzare la calcolatrice solo il quinto anno e quindi mi premeva invece far vedere che estremamente utile per consolidare alcune alcune abilità dicevo che matabe da anche materiali per secondo bienio come onda è un'altra attività praticamente sulle funzioni goniometriche intrigante che lavora anche lì sulle risoluzioni di esecuazione con i grafici esplorate le attività di matabe relazioni e funzioni e lavorate oltre non so se riesco a darti il segno del comando come relatore perché non lo vedo non ancora non lo vedo dimmi dove lo trovo mi piace insomma vedere quali sono le potenzialità da santi e spero utili per per i docenti anche molto molto pratici e didattici per esattamente sono esperienziali diciamo perché ribadisco questo discorso michele e poi mi chiudo mi taccio ogni volta magari fa prepariamo delle proposte e quando uno va a sperimentare in classe il feedback che le classi danno è particolare quindi ho ripassato alcune cose nelle mie due quarte ho introdotto questo discorso nelle mie due terze le due quarte avevano lavorato con me in pandemia le terze provengono diversi indirizzi da noi automazione provengono magari dagli elettronici e dal bienio informatico con insegnanti diverse ma noi lavoriamo su dei percorsi estremamente particolari perché può succedere che magari ci siano delle situazioni in cui alcune classi vengono unite e quindi abbiamo lo stesso testo abbiamo gli stessi percorsi abbiamo gli obiettivi minimi uguali ci confrontiamo in seconda poi ci sono delle prove che vanno a verificare le competenze in maniera trasversale quindi c'è tutto un lavoro sotto estremamente utile per portare i ragazzi ad un certo livello allora io su queste cose perché la nostra dirigente che è ingegnere che lavora ci ha detto mi raccomando non date nulla per scontato soprattutto in matematica mi raccomando lavorate su diversi codici mi raccomando recuperate le cose di prima e di seconda con i ragazzi che sono bravi perché alcune cose sono dei francobolli e quindi poi tutto questo si ripercuota nella materia di indirizzo nel triennio e mi raccomando fate parlare i ragazzi nel matematichese perché loro al colloquio orale devono parlare e quindi le materie come matematica devono supportare le altre materie dove magari devono fare laboratorio e quindi riporto a voi queste cose e l'ho trovato estremamente interessante quando intanto loro fanno fatica a esplicare il loro pensiero e quindi lavorare in questa modalità diventa estremamente difficoltoso e noi dobbiamo dare spazio ma se questo succede si propongono loro vengono fuori loro a fare le cose anche se magari c'è qualche errore perché superano la paura di sbagliare e l'errore diventa uno strumento come nel codice di e quindi fare anche quella che è stata programmazione strutturata con loro con la definizione di modulo per poi lavorare nelle diverse modalità è stato estremamente importante chiudo questo questo feedback esperenziale ringrazio anche del nella precisazione io vorrei ricordare che il prossimo webinar sarà il 17 novembre con Pierluigi Lai e Pierromano sbagliato prima dire mentre il prossimo webinar con te Virginia sarà il 24 novembre quindi su la robotica educativa su Python non so se vuoi dire due parole altrimenti sì allora sarà un primo webinar siamo d'accordo proprio con Lisa Lanzarini e con Stefan che è il referente proprio europeo di lavorare introducendo questo strumento proprio perché il codice viene molto viene spinto dalla comunità europea e noi in Italia soprattutto negli indirizzi dei licei non lo facciamo molto uno strumento che poi viene utilizzato all'università e in Francia è uno strumento che praticamente è obbligatorio nel senso che la programmazione la fanno nei licei scientifici quindi l'idea è quella di cominciare a fare delle piccole cose e ho sentito anche Luigi Tomasi e Luigi darà qualche apporto per cui prepareremo qualche cosa sicuramente insieme poi se Luigi non potrà essere presente la nostra magari presenterò io però diamo sempre il merito degli autori con Luigi si siamo trovati a seguire anche dei webinar francesi dei webinar internazionali per cui io darò degli spunti in questo primo webinar molto molto semplici e proprio introduttivi quindi nulla di particolarmente difficoltoso ma molto pratico per venire a contatto con la calcolatrice darò anche degli spunti che sono fruibili e che per coloro che vogliono fare degli affondi ci possono essere anche degli studenti che sono interessati a lavorare alcuni miei studenti di quarta mi hanno detto ma profe io magari invece di comprare quella col CAS comprerei quella senza CAS comprerei quella col CAS perché così la uso anche dopo e mi serve anche nella materia di indirizzo se poi non la uso all'esame di maturità non so neanche se ci sarà lo scritto o meno e così via ma mi serve una cosa proprio per lavorare e poi quella col CAS può essere utile perché poi se si vuole lavorare con il lab e lavorare con le sostanzialmente con i rover magari risulta essere più facile perché Python è un linguaggio che viene utilizzato però è molto carino lavorare anche in t-base darò anche qualche collegamento se qualcuno ha le calcolatrici vecchie come le mie non è ancora riuscito a farla cioè a comprarle nuove ed averla a disposizione perché magari c'è qualcuno che ce l'ha con i fratelli e darò qualche spunto per poter lavorare sempre in in stemma Virginia chi ha la versione diciamo precedente la calcolatrice comunque la la calcolatrice è possibile aggiornarla con questa nuova funzionalità del Python quindi la vecchia calcolatrice non è aggiornabile perché esattamente è già preinstallato comunque è possibile aggiornarlo se avete la calcolatrice recente se è questa rossa se è questa rossa voi potete fare l'aggiornamento e aggiornare all'ultima versione se è quella nera non è possibile perché il processore diverso non è ottimizzato per poter avere il Python da questo punto di vista e quindi Virginia ti do appuntamento al al prossimo webinar e grazie ancora e vado a chiudere perché abbiamo un po' sforato scusami allora un secondo che riprendo la nostra presentazione si ricorda a tutti la possibilità di acquistare le le calcolatrice grafiche Texas Instruments a un prezzo particolarmente agevolato per docenti quindi questi due codici che vedete con libro libro e caricabatterie hanno un prezzo molto molto conveniente per i docenti e viene dato in omaggio anche il libro calcolatrice grafica all'esame di stato sono presenti acquistabili anche con carta del docente e sono presente offerte anche per gruppi di studenti minimo 10 o minimo 20 potete contattarci per informazioni come diceva Virginia c'è la possibilità di acquistare anche la versione CAS sempre a prezzo docente molto conveniente anche con anche con il libro volendo in ogni caso e diversi accessori come ti ha innovator per elettronica coding cbr2 per un misuratore di posizione sona per fare esperimenti fisica o sul moto in generale ti ha i rover che è un tipo un robottino che con l'innovator abbia una calcolatrice riesco a programmare in python altri linguaggi oppure le classiche calcolatrici scientifiche texas ma diciamo con funzionalità premium rispetto ad altri tipi di calcolatrici ricordo a tutti il prossimo webinar del 17 novembre con Pierluigi la e Piera Romano su perché come utilizzare la calcolatrice a lezione e si può iscrivere su innovation for education quello successivo è quello di cui parlavamo io e Virginia sul diciamo lo stem robotica e coding con python quindi ricordo che le calcolatrici grafiche anche i relativi accessori sono acquistabili anche con i fondi stem se alcune delle vostre scuole sono diciamo aggiudicatarie di questi fondi ringrazio tutti vi ricordo che il certificato per chi ha partecipato in diretta verrà inviato l'attestata di partecipazione e tutti riceveranno comunque la registrazione del webinar e le relative slide vi ricordo il nuovo catalogo 2022 potete scaricare dal nostro sito oppure dovreste aver ricevuto a scuola una maggior parte delle scuole in formato cartaceo qui vi lascio i nostri gruppi i nostri contatti quindi il gruppo pon dove potete scambiarvi informazioni per i progetti il gruppo stem didattica a distanza e i nostri social dove potete continuare a seguirci vi ringrazio vi saluto e vi do appuntamento al al prossimo webinar con Texas Instruments buonasera a tutti attravi Grazie.